sviluppare un'autostima di ferro perché poi è l'autostima di ferro che ci può dare la capacità di levarci dei coglioni e le persone estremamente negative quindi se vuoi sviluppare autostima devi tenere presente che ci sono che ci sono delle dei pensieri di disistima saluto matroska ci sono dei pensieri di disistima e questi pensieri di disistima vanno eliminati dalla nostra testa vanno eliminati dalla nostra mente se tu vuoi amare te stessa devi imparare a renderti conto di che cosa la disistima la disistima è semplicemente una valutazione erronea negativa di noi stessi che avviene avviene in che modo la disistima si manifesta quando noi sviluppiamo dei pensieri dominanti un pensiero dominante è un pensiero che come dire che entra nella nostra testa immesso da altri noi sviluppiamo disistima già quando qualcuno ci fa una comparazione fallimentare ringrazio matroska una comparazione fallimentare rispetto a qualcun altro ad esempio se una persona ti fa una comparazione fallimentare e tu ci credi vuol dire che stai sviluppando grazie matroska che tu stai sviluppando disistima questo è un qualcosa che devi rendertene conto un ringraziamento a matroska grazie anche michelle devi rendertene conto di che questo è un fattore importante un fattore fondamentale i pensieri dominanti grazie a piero i pensieri dominanti sono piero sono pensieri che dobbiamo imparare a modificare pensieri dominanti sono tre sono il pensiero di incapacità il pensiero di impedimento e il pensiero di sventura di sciagura quindi nel momento in cui tu inizi a pensare di essere come dire incapace diciamo così di battere tra virgolette i tuoi antagonisti pensi di essere peggio degli antagonisti cioè pensi di essere impedita grazie Elena pensi di essere impedita nella capacità di dominare di sconfiggere gli antagonisti entri già in un pensiero di disistima perché tu non devi sentirti inferiore a nessuno non devi assolutamente ringrazio Elena non devi assolutamente sentirti inferiore a nessuna o a nessuno questa è una sensazione che devi provare dentro perché è ovvio che se io mi sento inferiore che che sia essere come dire tu ti senti inferiore a una persona noi possiamo essere anche meno bravi di qualcuno ma non per questo siamo inferiori cioè come dire io non è che mi senti inferiore a nessuno poi ci sarà qualcuno che in una materia specifica sarà pure più bravo di me che ne so in qualunque in qualunque cosa ma noi non dobbiamo sentirci inferiore noi non siamo inferiore a nessuno ci sono potranno essere persone che sono che hanno più capacità di te ma il che non significa che siano superiori ma poi questa è una questione proprio cettiva cioè come noi ci sentiamo quindi per sviluppare autostima devi evitare di sentirti inferiore a chi che sia a chiunque il che non significa non prendere atto del fatto che una persona è più brava di te a fare qualcosa ma non detto che sia superiore cioè nel senso se io mi mettessi a fare la corsa dei 100 metri ma sai quanti mi battono tutti praticamente quelli che fanno che sanno correre che hanno fatto un po un po di corsa tutti sanno qualcosa più di te ma il discorso non è quello il discorso è che non è che una persona è superiore invece con gli antagonisti tu pensi che le persone siano siano superiori a te quindi pensi che la quindi vengono fuori pensieri estremamente negativi no pensi che ma se vai in palestra magari conosce qualcuna fisicata e quindi diventi gelosa no non vuoi che il tuo la persona che conosce ad esempio frequente una palestra perché sicuramente ci saranno donne che sono meno chiatte di te e quindi temi che questa persona ti possa in qualche modo poi lasciare ma se tu temi questo vuol dire che veramente ti senti chiatta ti senti sfigata quindi questo deve evitare di farlo deve imparare a diciamo a non sentirti seconda a nessuno secondi a nessuno questo era era il nome di un ristorante che faceva solo primi no secondi a nessuno ma non devi veramente sentirti seconda a nessuno e poi non devi anche sentirti perfetta così come sei poi non importa che sei in un modo piuttosto che sei in un altro tu devi sentirti perfetta quindi se poi se uno non ti vede perfetta è un problema suo non è un problema tuo tu devi sentirti perfetto io sono perfetto così come sono se ti vado bene è così se non ti vado bene vai fuori dei coglioni al più presto questo vuol dire non avere crisi di identità io sono colui che è questo è quello che rispose Yahweh a grazie Emanuele quello che rispose Yahweh a Mosè no quando Mosè chiese a Yahweh ma tu chi sei insomma lui dice io sono colui che è e anch'io ditelo anche voi io sono colui che è se siete se all'altra persona gli andate bene va bene se non andate bene fuori dai coglioni ma questo in tutte le situazioni nel grazie sunshine nelle situazioni di amicizia nelle situazioni di qualunque natura e se siano voi dovete come dire sentirvi non dovete sentirevi esattamente inferiori a nessuno non importa quello che le persone fanno e quando una persona vi lascerà anziché viverevi l'abbandono di ogni mi abbandonato fare la regosta bollita mi abbandonato nini 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 questo è l'avverso della malga cosa quando viene abbandonata non dovete dovete fottevene se una persona vi lascia pensate poverino non sa quello che se è perso fuori dai coglioni uno ne entrerà un altro è perché questo è quello bisogna diventare un po più cinici da questo punto di vista no imparare a fottersene imparare a fottersene è un qualcosa di fondamentale e poi importantissimo è credere alle azioni non credere alle persone anche io posso dire ti amo una persona ma cosa costa come dice diceva un ti amo non si nega nessuno no eh ma mi ha detto ti amo mi ha detto ti amo e beh che vuol dire te lo posso dire anch'io ti amo ti amo ti amo non costa niente no dire ti amo anzi è anche abbastanza veloce quindi non dovete fregarvene cioè o prendere in considerazione il fatto che una persona ti ha detto ti amo o ti ha detto ti voglio ti ha detto dipende da quello che fa perché è lo stesso discorso di quando tu cara malgasciona hai a che fare con hai a che fare con una persona sposata ad esempio sperando che questa persona sposata possa lasciare il marito ad esempio no o la moglie e tu spera spera che lasci la moglie o che lasci il marito tanto come dire se te lo dice a parole conta niente io se c'è quanti uomini dicono per anni adesso è venuto il momento tra un mese la lascio sono proprio stufa e poi non lasceranno mai ma il problema è che quella è una relazione tossica o una relazione di questo genere tu devi avere la forza di chiudere definitivamente di guardare oltre perché non ci sono altre chance altre possibilità tra l'altro le persone manipolative fanno spesso conversazioni prive di senso no che sono finalizzate a coinvolgerti parlano avanvera fanno hanno argomentazioni fallaci fallimentari e il problema non è loro il problema è di chi si aggancia perché tu non dovresti mai agganciarti a questo tipo di persone dovresti sviluppare appunto autostima per sviluppare autostima devi mettere pensiero pensieri dominanti pensiero di io ce la faccio pensiero di capacità io sono capace pensiero di fortuna io sono fortunata io sono fortunato inizia a crearti un inizia a crearti un una situazione diversa e vedrai che le cose arriveranno arriveranno da sola non è che dovrai fare i salti mortali le situazioni capitano quando noi creiamo il contesto giusto per farle capitare e nel frattempo iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video seguimi su instagram massimo tra maschio ufficiale e seguimi su tiktok e ovviamente se vuoi fare donazioni ogni fai pure donazioni che sono ben accettate